Ciao ragazzi, buongiorno. Ah, senza buongiorno. Vabbè lo volete proprio la sera. Ciao ragazzi, siamo nell'Evo Studio Record. Con gli occhiali senza, guarda, sto bene con gli occhiali o sto bene senza? Ok, che dobbiamo dire? Ciao ragazzi, siamo qui nell'Evo Studio Record come gruppo Evo Club e stiamo lavorando a un nuovo progetto, un bel progetto. Il secondo album che presto vi faremo sentire, oggi stiamo registrando una nuova canzone che fa parte del secondo album. Ebbene, per questo nuovo album, come anche nel caso del primo album, abbiamo cercato di fare vari generi, non vi faremo aspettare molto. Continuate a seguirci sul nostro canale di Facebook, su Instagram, parlate con i vostri amici e quindi a presto, un saluto da Evo Club. Ciao ragazzi, buongiorno. A chi ti sta rivolgendo? Al nostro pubblico di Facebook o Instagram. Grazie del vostro sostegno, a presto. Grazie, ciao.